Buonasera, benvenuti a 8 e mezzo, buonasera, benvenuta Alessandra Moretti, eurodeputata del PD, buonasera, bentornato Maurizio Belpietro, direttore della Verità e di Panorama, buonasera, bentornato Andrea Scanzi, giornalista del Fatto Quotidiano e buonasera, ben arrivato Paolo Berizzi, inviato di Repubblica. Allora avete sentito, Di Maio torna di lotta e lancia una manifestazione di piazza contro quella che chiama la restaurazione, con chi ce l'ha, visto che al governo ci sta lui con il Movimento 5 Stelle? Subito dopo la pubblicità. Onorevole Moretti, Luigi Di Maio ha rotto il silenzio e ha lanciato una manifestazione di piazza contro quella che chiama la restaurazione, ovvero questo sistema che vuole abolire le leggi simbolo del Movimento 5 Stelle, il reddito di cittadinanza, il taglio dei parlamentari e la prescrizione. Allora, Di Maio va in piazza contro chi? Contro il governo di cui fa parte o contro voi del PD che siete al governo con lui? Mi sembra che Di Maio voglia andare in piazza contro se stesso, nel senso che ognuno certamente ha il suo stile e lo deve mantenere, però se io fossi Di Maio non avrei mai organizzato una manifestazione di piazza contro un governo di cui faccio parte, anche perché compito di chi governa, e Di Maio in questo momento sta governando, non è quello di riempire le piazze, ma è quello di risolvere i problemi e quindi con la controparte, anche se di governo, bisogna dialogare, bisogna trovare un punto di mediazione sulle questioni, non è che bisogna comportarsi come i bambini dell'asilo che appunto bisticciano ogni giorno, bisogna trovare delle soluzioni a dei problemi. Se Di Maio ritiene che le sue questioni siano prioritarie non deve andare a riempire le piazze, ma deve cercare di convincere i suoi alleati di governo. Andrea Scanzi, è così? E cosa c'è dietro questa mossa di Di Maio? Ma ci sono tante cose, intanto c'è il desiderio di Di Maio di ricordare a se stesso e credo anche agli altri di essere ancora nella lizza, nella contesa politica, poi c'è sicuramente il fastidio di Di Maio del far parte di questo governo che non ha mai sentito suo e poi c'è il desiderio di ribadire delle battaglie che sono fortemente identitarie da parte del Movimento 5 Stelle. Il Movimento 5 Stelle è in caduta libera, ha avuto un assist gigantesco dalla cosiddetta casta, cioè questo tentativo di reintrodurre i vitalizi, che è uno dei tanti suicidi che ciclicamente fa la casta per rimettere in gioco la cosiddetta antipolitica e Di Maio sta cercando di sfruttare la scia. Dopodiché io credo che questo governo abbia miliardi di problemi che sono stati anche riassunti in parte da Alessandra Moretti. Francamente non vedo questo grande disagio e questo grande disastro nello scendere in piazza perché alla fine Di Maio scende in piazza il 15 febbraio per delle cose che il Partito Democratico, l'EU e Italia Viva conoscono benissimo. È chiaro che se il Partito Democratico vuole abolire il reddito di cittadinanza questo governo cade domani, se il Partito Democratico vuole reintrodurre i vitalizi e non è più d'accordo col taglio dei parlamentari il governo cade domani eccetera eccetera eccetera. Quindi sì è una mossa ideologica, è una mossa plebiscitaria, è una mossa di tipo propagandistico ma non c'è nulla di nuovo, nulla di tragico, i problemi sono altri e se volete poi stasera ne parliamo. Allora Maurizio Belpietro non c'è nulla di nuovo, tu oggi hai scritto per esempio che Di Maio va in piazza contro Giuseppi ovvero contro il Premier Conte. Sì sì va in piazza sicuramente contro Italia Viva, contro il Partito Democratico, soprattutto sul tema della prescrizione ma c'è anche quello dei vitalizi, ma va in piazza anche contro un pezzo del Movimento 5 Stelle, quello che strizza l'occhio un po' alla governativa va in piazza contro Giuseppe Conte che è colui che gli ha un po' tolto il ruolo, cioè come diceva Scanzi, sicuramente Di Maio non era favorevole alla nascita di questo governo, preferiva quello precedente, dopodiché le cose sono andate come sono andate, Salvini si è tirato indietro e quindi c'è stato quello che Di Maio ha vissuto come un tradimento, ma certo non si immaginava di gettarsi tra le braccia del Partito Democratico e soprattutto non immaginava che Giuseppe Conte sarebbe diventato il punto di riferimento del Movimento, perché è quello che è accaduto, cioè Grillo parla di lui come un elevato e quindi ha tolto praticamente il ruolo a Di Maio, il quale si è sfilato un momento prima di prendere la batosta in Emilia Romagna, dove peraltro non voleva candidare praticamente nessuna lista, né in Emilia Romagna né in Calabria. Paolo Berizzi, sembra quasi un po' un gesto disperato quello di Di Maio e tu ci vedi anche la voglia di difendere quello che lui e i 5 Stelle hanno fatto insieme al governo Salvini, c'è un po' questa nostalgia per Salvini anche? Ma non lo so se c'è nostalgia per Salvini, a me sembra che Di Maio voglia provare a ritrovare Di Maio e forse anche quell'elettorato meno parte di quell'elettorato che in Emilia Romagna le ultime elezioni regionali si è sbriciolato letteralmente. Il fatto che Di Maio lanci questa sfida su un terreno scivoloso o minato come quello della prescrizione può essere da una parte un vantaggio, perché l'attore principale di questa partita è un ministro pentastellato, Buonafede. Certo, ministro della giustizia, Buonafede. Esattamente, dall'altra può rivelarsi anche un forte rischio, un azzardo, perché se Renzi fa scherzetti questa partita rischia di diventare per il Movimento 5 Stelle, in questo caso Di Maio cioè il proponente, una partita scivolosa, pericolosa, dove il Movimento 5 Stelle rischia di uscirne se non con le ossa rotte ma ulteriormente indebolito. Onorevole Moretti, perché per il PD è così difficile sostenere battaglie come quella sulla prescrizione e reddito di cittadinanza? In fondo sono anche battaglie vostre da sempre, no? La battaglia contro la povertà, la battaglia contro le leggi ad personam di Berlusconi. Sì, io tra l'altro ritengo che questi siano temi che il centro-sinistra e il PD in primis debba portare avanti. Non a caso la questione dei tempi del processo, per esempio, è stata sollevata con il ministro Orlando quando faceva parte del governo Renzi. Il tema della povertà l'abbiamo affrontata istituendo il reddito di inclusione. Allora, io credo che sul tema della prescrizione, per esempio, nessuno è contro di per sé la riforma. Il tema è come affrontiamo una riforma nell'ambito di una riforma più strutturale del sistema giustizia e del sistema dei tempi della giustizia. Abolire la prescrizione così com'è non serve a nulla. Bisogna ridurre il tempo della giustizia perché un cittadino ha diritto, secondo la nostra Costituzione, ha dei tempi di un processo giusto e rapido. E quindi la prescrizione rappresenta di per sé una patologia. E se il sistema giustizia in Italia funzionasse come dovrebbe, non scatterrebbe mai. Quindi è questo che noi dobbiamo affrontare. E trovo assolutamente anche qui infantile un ministro che dice o questa riforma la mia oppure mi dimetto. Perché una persona seria si siede ad un tavolo e trova anche qui un punto di mediazione. Noi come PD abbiamo una proposta, quella del ministro Orlando, ed è su questa che possiamo aprire un dibattito. Ecco, ma è infantile anche Renzi e crea più problemi al governo Renzi o Di Maio? Ma più che al governo, secondo me, i continui bisticci creano problemi gli italiani perché si continua, come dire, a non trovare mai una soluzione quando questo Paese di cose da fare ne ha tante. In primis appunto una riforma della giustizia, ma penso anche al tema dell'occupazione, penso anche alla riforma dell'IRPEF. Insomma, sono tanti gli argomenti, come diceva giustamente scanzi su cui potremmo iniziare a discutere e a confrontarci. Non fanno bene né l'uno né l'altro, secondo me. Dovrebbero, se fanno parte dello stesso governo, lavorare perché questo governo possa dare il meglio di sé. Altrimenti non so se così avanti si possa andare ancora a lungo. Senta Moretti, il ministro dell'Interno Lamorgese ha detto che c'è un'emergenza odio nel nostro Paese. Salvini in serata ha replicato dicendo che l'emergenza fosse la disoccupazione, la mafia, l'andrangheta. Lei cosa pensa? Allora, io credo che la ministra Lamorgese, da persona seria e molto competente, qual è e fa il ministro degli interni così come avrebbe dovuto farlo probabilmente. Salvini ha detto una cosa molto vera e molto giusta. Noi ci stiamo trasformando in un Paese dove la politica purtroppo usa un linguaggio razzista, usa un linguaggio discriminatorio. Abbiamo avuto l'avvio di questo tipo di politica con Grillo, con il Vaffadei, con Salvini che prendeva in giro le colleghe, penso alle tante frasi sessiste e offensive rivolte alla Boldrini, alla Chienge, oppure politiche come quelle di alcuni sindaci leghisti che hanno negato la mensa, il diritto alla mensa dei bambini di figli stranieri che non riuscivano a pagare le rette. Insomma, tutto questo crea una cultura che non è ammissibile in un Paese nato sulle ceneri della Seconda Guerra Mondiale, nato sulle ceneri dell'antifascismo e quindi noi dobbiamo continuare invece attraverso la scuola, la formazione, più investimenti alla cultura, ad affermare invece che siamo un Paese diverso rispetto a quello che Salvini dipinge. Non a caso le sardine in Emilia-Romagna, quelle piazze dell'Emilia-Romagna forse gliel'hanno insegnato, oltre che al voto dell'Emilia-Romagna. Maurizio Belpietro, sei d'accordo e se un Ministro dell'Interno come Luciano Lamorgese, che è un prefetto poi, che è finita come tecnico a fare Ministro dell'Interno, lancia questo allarme, l'allarme odio. Bisognerebbe ascoltarla un po' di più e invece che replicare con slogan, come fa Salvini? Io penso che l'odio ci sia sempre stato e non ci sia un'emergenza particolare. C'era prima, ma qualcuno non lo vedeva, ma solo perché era rivolto verso un'altra parte c'è adesso, ma non mi sembra la questione più grave davvero da affrontare. Ma non è una questione di slogan, è una questione di parlare con le persone, sentire che ora pensano le persone, cosa pensano gli italiani. Non si tratta di fare degli slogan. Ora, che ci sia una quota di persone che si esprime in maniera volgare, fascista, razzista, comunista, chiamatelo come volete. Sì, basta andare su, guardare i social network e ci si rende conto che c'è questa realtà. Ma c'era anche prima, non è arrivata adesso, non è arrivata né con i sovranisti né è un predominio di qualcun altro. Ci sono persone che sono insultatori di professione, violenti verbalmente di professione e qualche volta purtroppo non soltanto verbalmente. Berizzi, ti interpello anche perché tu hai appena scritto questo libro, L'educazione di un fascista, che esce oggi, pubblicato da Feltrinelli. Sei d'accordo con l'analisi che ha fatto Belpietro? No, sono d'accordo con la ministra Lamorgese. Io penso che l'odio sia purtroppo diventata oggi la cifra di questa stagione politica e sociale anche. Tutto quello di cui parlavamo poco fa è la conseguenza di chi per mesi ha portato avanti narrazioni, una propaganda che faceva dell'odio il perno intorno al quale far ruotare la propria proposta politica, manifestazioni, comizi. Se il ministro degli interni, quindi la più alta autorità nel campo della sicurezza, dice che c'è un allarme odio, c'è un allarme recrudescenza legata fenomeni come l'antisemitismo, il neofascismo, il neonazismo. Il fatto che lo dica una persona come dire super partes, dal mio punto di vista vuol dire che qualche problema ce lo abbiamo. Noi di Repubblica lo stiamo provando sulla nostra pelle da un po' di tempo, il ministro Lamorgese parla anche di questo, si è scatenata una campagna d'odio nei confronti di Repubblica, abbiamo ricevuto minacce di morte, intimidazioni, attacchi che sono ormai seriali da un paio di mesi. Credo che l'Italia sia un paese malato di virus, di odio, credo che questo virus sia un virus pericoloso e credo che quando il ministro parla di non sottovalutare quello che potrebbe farci tornare a epoche, tempi, bui, che pensavamo la storia avesse seppellito, credo che su questo il ministro abbia totalmente ragione. Andrea Scanzi, stiamo sottovalutando e i politici stanno sottovalutando? Qualcuno lo sottovaluta e qualcuno lo cavalca, ha ragione Belpietro quando dice che siamo pieni di insultatori di professione e di odiatori seriali, anzitutto nel web, mentre noi parliamo immagino che tutti noi cinque veniamo insultati dalla mattina alla sera, è insultata Repubblica, è insultata la verità, è minacciato il fatto, sono minacciati praticamente tutti e questo è un aggravante ovviamente. Qual è secondo me il discrimine e il problema? È che ci sono alcuni politici che secondo me cavalcano questo clima e quello è il grave. Quando tu hai un ex ministro dell'interno che va a suonare a un tunisino dicendo ma lei spaccia, quando tu hai una, come Alessandra Mussolini che accusa Liliana Segre e già fa ridere la Mussolini che accusa Liliana Segre di essere diventata la strega di Biancaneve perché fomenta l'odio nei confronti del fascismo, quando hai un vice sindaco di Ferrara che fa i video dicendo vi facciamo un culo così e potrei fare esempi infiniti, soprattutto di destra ma non solo, è chiaro che c'è un problema. Dopodiché quello che è un ulteriore spunto di riflessione che sicuramente ha toccato Berizzi nei suoi libri ma tutti noi, è quello che questo clima piace a un elettore su due. Io guardavo lunedì scorso i sondaggi, i sondaggi dicono che se si va a votare domenica il centrodestra tutto sommato, proprio sommato anche le frattaglie tipototiche con tutto rispetto a pochi punti percentuali, però è sopra il 50%. Questo vuol dire che ci sono molti italiani che evidentemente, non solo con questo clima per carità, Salvini fa anche delle battaglie meritorie dal suo punto di vista, è uno che parla alle persone, però evidentemente quel clima molti di noi non piace ma altri in qualche modo ci sguazzano o si sentono addirittura rappresentati da certi messaggi e in questo senso a me ha colpito molto l'intervista anche recente che ha fatto Nicola Zingaretti quando ha parlato del Movimento 5 Stelle. Se voi ci fate caso, per quanto i 5 Stelle stiano spingendo sul pedale dell'acceleratore e anche della provocazione, un po' come Renzi, Zingaretti è sempre un po' il calmatore, il pompiere, perché? Sicuramente perché è il più serio, dirà qualcuno, è probabile, ma anche perché secondo me si rende conto che ancora non siamo a un punto di bipolarismo netto, dove c'è il centrodestra e c'è un centrosinistra. A oggi c'è un centrodestra che ha più del 50% e poi c'è il PD che ha il 20%. Il PD da solo non va da nessuna parte, quindi paradossalmente la crisi sembra definitiva del Movimento 5 Stelle, è un ulteriore campanello d'allarme per Zingaretti e per il PD. E anche per questo secondo me Zingaretti non va allo scontro frontale, perché paradossalmente ha bisogno che i 5 Stelle con tutti i difetti che Zingaretti sicuramente conosce, tornino un po' in auge, perché senza loro Salvini ha il campo completamente aperto. Onorevole Moretti, è questo il vostro problema? E avere un centrodestra che supera il 50% mette voi in un angolo, soprattutto perché dovete gestire e la compagine di governo, cercare di governare e governare bene e anche i vostri alleati più vicini che sono, vogliamo dire, un po' inquieti. E un'altra cosa che aggiungo a proposito di Zingaretti, quando Zingaretti ha definito i decreti sicurezza decreti dell'odio, quindi quelli di Salvini, perché non li cambiate visto che siete voi al governo? Infatti è uno dei temi che noi anche qui dall'Europa poniamo sempre quotidianamente, visto che abbiamo a che fare con chi cavalca demagogicamente alcune questioni irrisolte anche da un punto di vista europeo. Io credo, per esempio, che i decreti sicurezza badano cambiati perché non hanno sortito gli effetti che dovevano, che la linea probabilmente di Lamorgese va più verso quella coniugazione tra la sicurezza, che è un diritto del cittadino, e anche però quella dell'accoglienza, che è un altro valore che noi dobbiamo riuscire ad affermare, con uno in Europa però che torni ad essere rilevante, se lo è mai stata, nell'ambito appunto dell'immigrazione e del tema appunto della redistribuzione, per esempio, dei migranti. Allora, su queste questioni, che sono questioni fondamentali, abbiamo certamente bisogno di discutere non tanto al nostro interno quanto con degli alleati di governo che però anche su queste questioni non mi sembra abbiano una linea definita, perché è evidente che quando hanno fatto i decreti sicurezza governavano loro con Salvini, allora adesso li vogliamo cambiare con chi però quei decreti li ha firmati. Non è semplice, non è un'alleanza che io, voglio dire, ho mai visto con favore, francamente. Spero di non dover governare più con il Movimento 5 Stelle, anche se Scanzi ha ragione, noi da soli non ce la facciamo, perché non abbiamo la forza, soprattutto se andiamo probabilmente alle elezioni, bisognerà poi vedere, perché anche in Emilia Romagna Salvini diceva che avrebbe stravinto e poi invece non è stato così. Allora, Belpietro, la Ministra dell'Interno ha aumentato anche lo stanziamento destinato, tornando al problema dell'immigrazione, all'accoglienza dei migranti che Salvini aveva tagliato e lei lo ha fatto, sussenerazione dei prefetti, perché i bandi, i concorsi andavano deserti regolarmente, i bandi per l'accoglienza. Poteva fare diversamente la Ministra Lamorgese? Credo che la Ministra Lamorgese, se si impegnasse ancora un po', potrebbe riuscire a dare un contributo fondamentale a far crescere ancora un po' quel centro-destra che secondo Scanzi è già sopra il 50%, deve solo fare qualche altra cosa come questa e sicuramente il consenso degli italiani andrà dalla parte opposta, perché è evidente, cioè gli italiani, alla fine, in un anno e mezzo, se sono raddoppiati i voti della Lega, sarà anche perché Salvini è un bravo comunicatore, perché alza i toni e tutto quello che volete, ma sarà perché anche gli italiani vogliono qualche cosa, e cioè volevano dei provvedimenti che andassero in una certa direzione. Perché il Movimento 5 Stelle non cambia i decreti sicurezza? Non soltanto perché li ha approvati ed era il partito di maggioranza, non soltanto perché Giuseppe Conte era il Presidente del Consiglio quando si votarono e si approvarono quei decreti sicurezza, ma perché sa perfettamente che se smontasse i decreti sicurezza, beh, ci sarebbe un problema soprattutto di mantenimento di quel consenso che già sta precipitando. Di Maio, quando ha trovato occasione per parlare di questa faccenda, ha spiegato che le uniche correzioni che farà saranno quelle che sono state richieste dal Capo dello Stato in quel messaggio quando approvò quei decreti. Ma dall'altra parte c'è Del Rio e tutti gli altri che vorrebbero cambiarli totalmente questi decreti. Questa è la realtà, quindi alla fine si può voler cambiare quello che si vuole, ma poi bisogna tener conto degli italiani, cioè di quello che vogliono gli italiani e non di quello che vuole una parte della classe politica. Scanzi, poi Berizzi e poi torno alla onorevole Moretti. Scanzi. Beh, oddio, è abbastanza vero quello che ha detto Maurizio Belpietro. È chiaro che dentro il Movimento 5 Stelle ci sono molti che erano d'accordo con Salvini e addirittura lo rimpiangono, altrimenti farebbero una cosa politicamente molto lecita quando si fa un governo di coalizione. Si fa un doubt-dess, cioè si bussa alla porta del Partito Democratico e gli si dice noi si smaltella completamente questi decreti sicurezza, che a me personalmente fanno schifo ma loro purtroppo no, e in cambio voi ci venite incontro sulla prescrizione, sulla revoca delle concessioni autostradali. Governare significa questo. Tutti sappiamo che fino a ieri Di Maio non parlava con la Moretti e la Moretti non parlava con Di Maio. Però il governo l'avete voluto fare, ci provate. Dopodiché dentro i 5 Stelle molti sono d'accordo con Salvini. Secondo me ci sono altri due problemi però che Alessandro Moretti ha un po' sottovalutato ma conosce bene. Il primo è che anche dentro il Partito Democratico ci sono alcuni che non sono così convinti nello smontare totalmente quei decreti sicurezza. Li vuole smontare del rio del tutto, magari Marcucci li vuole smontare di meno. Cioè ci sono tante anime dentro il Partito Democratico, è innegabile. L'altra cosa che secondo me non deve indurre in eccessivi ottimismi il Partito Democratico è il riferimento all'Emilia Romagna. La Moretti fa bene a citarlo. Salvini ha dato una bella botta in Emilia Romagna, ha preso una bella percentuale ma ha perso le elezioni. Ma perché le ha perse? Uno perché l'Emilia Romagna che ha una certa storia. Due perché lì il Partito Democratico si è presentato in maniera diversa. Si è presentato con una bella faccia, si è presentato con una faccia giovane, si è presentato con un amministratore che ha saputo amministrare, si è presentato con la spinta delle sardine e si è presentato con una coalizione dove quella che ha preso più consensi è stato Elie Schlein, una che cinque anni fa ha bussato alla porta del PD e poi l'ha sbattuta per andare via. È chiaro che quel Partito Democratico può essere vincente. Se è un Partito Democratico che rimugina, che litiga da solo, che non sa se stare con i Cinque Stelle o se tornare con Renzi, eccetera, 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 gira vuoto e insisto, nel frattempo il centrodestra ha le praterie spianate davanti. Berizzi? Noi qualche settimana fa abbiamo fatto un titolo molto esplicito sui decreti di sicurezza che era la sintesi di un'intervista proprio a Graziano Del Rio, di cui si diceva, poi quel titolo che era cancelliamo Salvini è stato a proposito di odio, è stato usato per dire che noi che combattiamo l'odio in realtà lo fomentiamo, poi era chiaro a tutti il senso di quel titolo. Io sono d'accordo con quello che si diceva, i decreti di sicurezza di Salvini hanno ottenuto l'esatto opposto di ciò che volevano fare, cioè hanno generato illegalità, insicurezze. Quindi io penso che sia un tema prioritario quello di cancellarli. Quindi non è dare un'ulteriore mano al centrodestra? Io credo di no, dopodiché Salvini ne fa e ne farà l'uso che ne vorrà, anzi lo sta già facendo. Sono due linee completamente diverse politiche di come gestire l'accoglienza. Da una parte la politica dei respingimenti, dei porti chiusi, del prima gli italiani, dall'altra l'accoglienza cum grano salis, cioè secondo legge, banalmente, può sembrare una cosa oggi desueta, fuori moda, senza propaganda, senza fanfarate, senza schievature citofoniche come quelle che un ex ministro dell'interno ha fatto recentemente e non gli ha portato benissimo in Emilia-Romagna. Onorevole Moretti, ha ragione Belpietro quando dice che voi mettetevi pure a cambiare, modificare i decreti di sicurezza, così date un'ulteriore mano a questo centrodestra che già oggi, secondo i sondaggi, è oltre il 50%. E in ogni caso, come ricordava anche Scanzi, al vostro interno ci sono varie anime, lo diceva anche lei. Quindi? Sì, assolutamente sì, ha ragione Scanzi quando dice che ci sono posizioni molto diverse dentro il PD sul tema dell'immigrazione, perché l'immigrazione è un problema complesso e non può essere liquidato in maniera semplicistica, non può essere risolto in maniera semplicistica. Non a caso io prima citavo la grande responsabilità che l'Europa ha, anche nei confronti del nostro Paese per quanto riguarda questo tema. Ma voglio anche ricordare a Belpietro che quando a governare il tema dell'immigrazione c'era Minniti, i risultati per esempio sugli sbarchi erano evidenti senza evocare i porti chiusi che poi nemmeno Salvini ha mai chiuso, come ben sappiamo. Poi certamente il nostro è un partito che se continua a litigare non porta a casa nulla o molto poco rispetto alle potenzialità che ha, anche alle potenzialità che riguardano le persone, perché appunto Scanzi prima citava Bonaccini che ha vinto per le caratteristiche che ha, ma ha anche vinto perché ha avuto al fianco un partito democratico che ha saputo unire e ad ampliare il campo e non a ristringerlo e a dividerlo. Chiaro? Va bene, allora torniamo adesso all'Italia e a un aspetto che ci illumina e si illustra Paolo Pagliaro che viene spesso dimenticato e che però è un primato italiano che sarà al centro domani nei prossimi giorni, domani a Padova. Pochi secondi di pubblicità e poi il punto. Domani con una cerimonia presieduta dal Capo dello Stato, Sergio Mattarella, si inaugura l'anno di Padova, città europea del volontariato. È un riconoscimento all'Italia, paese d'avanguardia con circa 6 milioni di cittadini che svolgono attività gratuite a beneficio di altri o della comunità, come viene definito il volontariato nelle rilevazioni Istat. Ed è un riconoscimento a una provincia, quella appunto di Padova, dove sono attive 6.450 organizzazioni della solidarietà organizzata che lavorano nel campo della cultura, dell'assistenza e della promozione sportiva. Un primato non solo nazionale. Ricuciamo insieme l'Italia e il claim della manifestazione che l'ha preso in prestito proprio da un'esortazione di Mattarella. Il fenomeno del volontariato fotografa un paese profondamente diverso dagli stereotipi sul disimpegno, l'individualismo menefreghista, la fuga nel mondo parallelo dei social. Ci sono 1.200.000 italiani che dedicano almeno mezza giornata alla settimana ad attività gratuite nell'ambito dei servizi sociali, della protezione civile e della sanità. Un altro milione, in maggioranza donne, si dedica alle attività educative e alla catechesi con un impegno medio settimanale di circa tre ore, proposto anche come stile di vita. Ci sono i laici impegnati nelle associazioni ambientaliste, i volontari che rendono possibili iniziative culturali anche nelle periferie e nei paesi più sperduti, i 400.000 volontari dello sport che consentono di praticarlo a milioni di ragazzi. C'è l'esercito dei donatori di sangue, i 200.000 che dedicano il loro tempo libero ad attività politiche e sindacali o ad associazioni che si occupano di tutela dei diritti e dei beni comuni. Da domani a Padova si accenderanno finalmente i riflettori anche su questa Italia. Allora vi ringrazio di essere stati con noi, saluto e ringrazio Alessandra Moretti, grazie di essere stata con noi, Maurizio Belpietro, Andrea Scanzi, Paolo Berizzi e Paolo ricordo il tuo nuovo libro che da oggi nelle librerie si intitola L'educazione di un fascista pubblicato da Feltrinelli. E adesso linea Corrado Formiglia a sua piazza pulita, ci saranno tra gli ospiti Giuseppe De Rita, per Camillo Davigo, Emma Bonino e molti altri. Quindi state con noi qui sulla 7 e noi ci vediamo come sempre domani a 8 e mezzo. Arrivederci.